schiacciata è il colpo che si dà alla palla con una sola mano cercando generalmente di colpire il più forte possibile affinché gli avversari non riescano a recuperare la palla o non riescano a controllarla mandandola fuori in campo come in azienda sotto rete come sul mercato il mergas per il 2013 ha scelto come testimonial la schiacciatrice azzurra francesca piccinini però questo è lo scatto che tra tutti forse ci aiuta anche di più perché lei può tenere la mano di fianco come sarei presa a mezzo gusto quindi possiamo fare una è proprio iniziata così guardando il cartone animato ho detto quello sarà la mia vita voglio diventare come lei voglio giocare contro di lei e da lì ho detto mamma io voglio andare in Giappone e giocare contro le giapponesi ci ho giocato non c'era Milazuki però ho giocato con delle grandissime campionesse mi piace perché è matto e pazzo come me mi piace molto poi a me rivolgo una bellissima donna e mi fa compagnia nelle mie varie case in giro per il mondo io dipingo io dipingo per passatempo divertimento cerco di rimettere un po' di mia fantasia i miei sogni nella nella pittura la melagrana perché è un frutto difficile da mangiare da scoprire perché ci vuole tanta pazienza un po' dolce un po' amaro e francesco è così e quindi mi sono descritta il sito del mio libro un lavoro di concetto un lavoro di concetto un lavoro di concetto un lavoro di concetto va bene praticamente Bravi!